Ben trovati all'appuntamento con la rubrica dedicata ai principali cantieri attivi questa settimana in Campania. Sulla tre Napoli-Salerno dalle 18 alle 6 nei giorni dall'8 al 15 gennaio per lavori di manutenzione è chiuso lo svincolo Napoli-Porto in uscita verso Napoli. Sul raccordo di Benevento dal 9 al 31 gennaio dalle 7 alle 17 esclusi giorni festivi e prefessivi per lavori attivo restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo Benevento della 16 Napoli-Canusa e l'uscita San Giorgio del Sagno in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla statale 7 Appia l'11 e il 12 gennaio nella fascia raria 7-17-30 per lavori è attivo il senso unico alternato in corrispondenza della Galleria Salzerpina. Sulla strada statale 7 Quater-Domiziana sino alle 17 del 10 gennaio per lavori è attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Castelvolturno-Litorale-Domizio e Castelvolturno-Nord direzione Roma. Sulla statale 19 delle Calabrie fino al 12 gennaio dalle 7.30 alle 17 per lavori è attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra le località Campagna e Casalbuono. Sulla statale 372 Telesina sino al 12 gennaio dalle 7.30 alle 17 per lavori è attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra le località Verano Scalo e Dal Vignano. Buon viaggio!